Per la sua nona edizione il Musart Festival cambia location, da Piazza Santissima Annunziata, si sposta fuori dal centro di Firenze, più al fresco, nel Parco Mediceo di Pratolino. La macchina dell'allestimento è a lavoro per dare inizio allo spettacolo il 17 luglio. Partiremo il 17 con Pink Floyd Legend, il 18 avremo Roberto Vecchioni, poi abbiamo due giorni di pausa e ripartiamo con Lorina McKennett il 21 luglio, il 22 luglio il volo, il 25 luglio i Poo e chiudiamo con i CCCP il 26 luglio. Una chiusura infine il 27 luglio che torna alle origini, con il classico concerto all'alba nel cortile dell'Istituto degli Innocenti. Circa 5.000 i posti disponibili nella grande distesa verde di fronte a Villa Demidoff, immersi tra le meraviglie del parco. Mantenendo la tradizione del connubio tra musica e arte, organizzeremo anche delle visite guidate ai maggiori luoghi di interesse del parco. Un festival che ha pensato a tutto, all'arte, alla musica e anche alla logistica. Sono circa 1.100 posti auto designati e concordati, la prenotazione del parcheggio è obbligatoria. Abbiamo anche organizzato la navetta con il treno, che parte da Campo di Marte, che vi porta alla stazione di Vaglia e da lì navetta per arrivare al parco e naturalmente viceversa. Per chi volesse arrivare in macchina, la chiusura di via Bolognese non sarà un problema. Si interromperanno i lavori dal 16 di luglio fino al 26 di luglio, proprio per permettere alla viabilità di scorrere e di usare via Bolognese serenamente.